La 34esima edizione dell'indagine sulla qualità della vita del Sole 24 Ore segna un'incredibile svolta con la città di Udine in prima posizione, seguita sul podio da Bologna e Trento. È la prima volta che la provincia di Udine vince la qualità della vita, raggiungendo il primo posto tra i territori più vivibili. Questa classifica misura il benessere della popolazione. In Abruzzo soffia un vento favorevole in tutte e quattro le province, con Chieti in particolare che rispetto all'anno scorso balza in avanti di 14 posizioni. Seguono Teramo con 10 posizioni in più, L'Aquila con 9 e Pescara con 3. Chieti addirittura segna un primato inedito a livello nazionale e riguarda la voce giustizia e sicurezza. Intesta la classifica per il più basso indice di litigiosità tra i suoi abitanti. Pochissimo lavoro per gli avvocati teatini, insomma. A Teramo spiccano i furti nelle abitazioni e di automobili, mentre migliora la questione per quanto riguarda il tasso di natalità e lo spazio abitativo. Ottima la voce riguardo le piste ciclabili, in calo le librerie. L'Aquila registra un miglioramento per quanto riguarda lo sport, l'offerta culturale e la ristorazione. Segna però l'indice peggiore a livello nazionale per quanto riguarda la violazione del diritto d'autore o del copyright, ma anche alla violazione del diritto di proprietà industriale. Insomma, si registra un alto tasso di contraffazione del marchio. Pescara infine peggiora in indice della criminalità con più furti in abitazioni, più furti di auto e più rapine e spaccio di stupefacenti. Migliora invece per quanto riguarda l'ambiente e i servizi, con una migliore qualità dell'aria e più piste ciclabili. Buona anche la voce relativa alla cultura e al tempo libero.